C'è una proposta alternativa a quella del Comune di Teramo per la riqualificazione dell'area della stazione ferroviaria. I comitati di quartiere della Gammarana della stazione di San Berardo hanno lanciato stamattina la proposta di viabilità alternativa in vista dell'apertura in quella zona di nuovi centri commerciali. Parte da una constatazione che l'apertura dei due nuovi centri commerciali sicuramente porterà a un aumento del traffico nella nostra zona e partiamo dalla constatazione ulteriore che la piccola rotonda di via Fonte Regina non sarà in grado assolutamente di sopportare un traffico quindi si saranno code chilometriche. La nostra proposta quindi prevede la costruzione, l'apertura, la famosissima riapertura di cui si parla da decenni, centinaia di anni dietro il Kuwait, una strada che permetterebbe di poter ricollegare via Le Crispi con l'attuale area della Gammarana e il nuovo insediamento del globo. Questo farebbe sì che si potrebbe creare proprio nella zona della stazione un parco della stazione, un parco verde e l'altra grande bella iniziativa proposta che noi facciamo è un sottopasso da costruire proprio nella strada di via Aeroporto che permetterebbe ai ragazzi di defluire direttamente in sicurezza senza andare sulla strada direttamente nel cosiddetto parco della stazione. Quello della Gammarana è un quartiere in forte sviluppo, come vedete questo progetto? Sì, io parlo di idee non di progetti, è una cerniera tra quartieri importanti, la Gammarana, San Berardo e la zona della stazione Sacro Cuore quindi è un punto di raccorda. Sono delle idee, dei concetti abbastanza nuovi, il fatto di dare tranquillità anche all'attraversamento dei ragazzi che frequentano ad Alessandro, quindi attraverso un sottopasso che si ricollega al parco che dovrebbe nascere, quel lago Rà, quello spazio, quello spazio di collegamento tra i diversi quartieri, l'innesto con le piste ciclopedonali, l'accesso direttamente sulle aree commerciali che stanno prendendo pieta anche se al momento sono un po' fermi. E poi non dimentichiamo la riqualificazione degli spazi. Abbiamo assistito gli ultimi giorni l'intervento che si è fatto lì all'Aquila d'Oro che va dato un grazie all'amministrazione perché insomma era un problema annoso che si portava avanti e davanti e finalmente qualcuno ha messo mano e sta cercando di riqualificare quegli spazi, ne mancano altri, speriamo che a breve si possa dare un intervento. Io comunque insisto sul fatto delle idee perché i progetti devono essere lasciati agli altri. Noi proponiamo delle idee, è successo con l'ospedale perché siamo stati forse tra i primi se non i primi a dare indicazioni che forse in quello spazio, parlo dell'attuale Mazzini, lo spazio c'era è fruibile, è disponibile e quindi ce la possiamo realizzare. Quindi lavoriamo in questo modo, quello di prospettare idee affinché qualcuno ci ragioni su e se c'è qualcosa di interessante la porta avanti.